Benvenuto nella guida all'iscrizione online al servizio Mensa e pre-posto scuola del Comune di Pioltello. Dalla home page del sito del Comune accedi alla sezione Servizio online. Scorri la pagina e nel menu di sinistra Servizi scolastici clicca la voce Iscrizione alla Mensa. Ti verrà chiesto di inserire le credenziali di accesso e servizi online. Se non disponi ancora delle credenziali d'accesso, consulta la guida ai servizi online, come registrarsi e accedere ai servizi del Comune di Pioltello, dal nostro sito. Se già disponi delle credenziali, inserisci il tuo codice fiscale e la password. Sei entrato nella sezione di iscrizione al servizio Mensa. Clicca sul bottone Inserisci nuova iscrizione. Controlla rapidamente i tuoi dati anagrafici. Se hai già utilizzato il servizio Mensa l'anno scorso, inserisci il tuo codice utente. In questo modo non dovrai inserire nuovamente i dati dei figli da iscrivere. Dovrai solo verificare e confermare i dati. Se sei un nuovo utente, tralascia il campo Codice utente e procedi con la compilazione di tutti i campi richiesti. Se intendi scrivere più di un figlio, devi compilare i dati anagrafici di ognuno. I campi con l'asterisco sono obbligatori e non possono essere tralasciati. I dati richiesti sono quelli anagrafici, quelli della scuola, che potrai selezionare attraverso il menu a tendina dove dovrai indicare il tipo di scuola, il nome, la classe e la sezione. La voce seguente è l'iscrizione al servizio di pre e post scuola. Attraverso il menu a tendina devi operare la scelta e proseguire. Se hai diritto alla riduzione economica del servizio di refezione, nella sezione apposita clicca la voce Sì dal menu a tendina. Ti verrà chiesto di inserire il tuo valore ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, e la data relativa alla scadenza della certificazione. La certificazione deve essere valida per tutto l'anno scolastico. Se ancora non hai l'ISEE aggiornato, potrai modificare questo dato successivamente, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Se devi segnalare una dieta speciale, puoi scaricare e compilare il modulo relativo, che dovrai consegnare direttamente alla scuola. Per confermare l'iscrizione è necessario leggere con attenzione le condizioni generali del servizio. Una volta lette le condizioni, clicca per confermare le dichiarazioni e clicca su Prosegui. La schermata successiva riporta i dati che hai inserito. Prima di proseguire, sei invitato a verificare che siano corretti. Se devi modificare i dati, clicca su Modifica. Una volta verificata la correttezza di tutti i campi, clicca sul bottone Conferma invio. Hai completato il servizio di iscrizione online alla mensa. Cliccando sul pulsante Visualizza modulo inviato, puoi visualizzare la tua domanda di iscrizione con il ripilgo di tutti i dati. Scarica e salva il modulo in formato PDF sul tuo computer. Una volta terminata l'iscrizione, per uscire dai servizi online, clicca sulla voce uscita dal menu di sinistra. Ti ringraziamo per aver utilizzato il servizio online del Comune di Pioltello. Grazie. 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 Grazie.